buona seva oggi come avete visto nel video di ieri l'intervista ad ale oggi ale intervisterà me saluta signorale ciao sono sempre quello del video di ieri che noi stiamo registrando subito dopo però è di ieri ma va detto se no come li faccio i likes per l'impegno ha parlato quello che shoppa su fortnite vabbè comunque vai inizio l'intervista queste non sono cose che ti riguardano questo è quello che volevo dire io l'altra volta quindi stai zitto e dici il tuo nome però se vuoi faccio una orange justice no stai zitto e fai il nome no stai io la faccio lo stesso o dici il nome o vengo a casa tua violando lecce della quarantena e ti sparo oggi sono caduto vabbè vai dici il nome aspetna ora sto facendo orange justice sul di roma ma che stai facendo poi nel video vedrai aspetta 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 un attimo oggi mi dica quanti anni ha lo so infatti è il mio canale non si può sapere che diavolo stai facendo poi nel video vedrai non me ne possono vedere dai muoviti vabbè comunque io sono Andrea buonasera anche gli spaventi vabbè nani scato e scogno vabbè vabbè è così però in anni di no lo diciamo e che troppo eh? ch'età? 12 va bene poi a chissà hai fatto e vabbè come te così voglio dire a che età hai dato il tuo primo passo? eh diciamo diciamo a 50 anni ok perfetto quindi se rivingo? eh per forza ovvio lo sto già preparando eh non vi preoccupate sto già preparando che non è che manca molto quanto manca scusate aspetta un attimo sto sto aprendo adesso youtube 276 iscritti diciamo che potrei diciamo che non vi dico nulla sarà un video molto lungo quindi sarà diviso in diversi cioè non in diversi parti però lo stesso video tratterà di diversi argomenti vi dico solo una cosa compilation dei best moments ok dopo di che quanti like dobbiamo raggiungere per questo video? beh guarda per me ne bastano 57 vabbè non è una cosa facile ebbè conoscendo i miei video faccio due due like due like con i 70 views sai com'è? vabbè stavolta magari ti supererai quanti like vuoi quindi facciamo così se richiedo io i like arriviamo a 15 like e rifacciamo un'intervista ma 100 volte più cattiva di questa anzi cambio se arriviamo ai 15 like sì come in prima facciamo sai cosa? obbligo e verità obbligo e verità però quelli là di difficolt nel senso quelli là di civici quelli là molto no lo so io cosa facciamo ragazzi all'aggiungimento di 300 iscritti mi levo la coperta come sfondo madonna mia vabbè non mi provo poi aspetta quindi riuscivi? propria domanda qual è il migliore di amore preferito? beh ovviamente fnaf bene quello che ho dovevo dire volevo dire in ogni caso poi qual è la sua skin preferita su fortnite? la banana anche perché è una delle poche che ho poiché ricordatela era gratis non è federò però va bene sì era gratis sarà nel pass gratuito la banana sì era il pass gratuito sì sono otto il pass gratuito vabbè il pass è che facevi le sfide va bene non è questo va bene non ci interessa non è questo ciò di cui parlare di morce in ogni caso adesso quindi che possiamo dire io non ho programmato nulla se ho diventato un po' a caso poi non speciale ci sarà anche Minecraft e Fortnite la serie che ha abbandonato lo po' di tempo beh in realtà ho fatto in realtà ho pubblicato un episodio qualche settimana fa andatelo a vedere chiaramente non lo farò però è in ogni caso chiaramente io ci sono anche se non mi vedete dica non ho capito nulla non si è sentito nulla nemmeno in registrazione e noi ci avviciniamo ai 19 barra 20 like comunque se è 20 like cosa è un numero assurdo cosa possiamo fare forse non lo so possiamo fare sì noi facciamo veramente la verità perché i 20 like mi sembrano troppo oggi dai dobbiamo mancare la sfida e facciamo obbligo per i do e anche cattivo cioè 20 like ce lo meritiamo no? eh certo cioè che fai te ne aprivi comunque io direi che il video si può anche concludere qui no Alex è già andato vabbè comunque con la bananita alle spalle noi ci possiamo anche chiudere qui il video e niente ci vediamo nel prossimo video ciao